Io ringrazio il Comitato Scientifico per questo invito e per aver accolto la proposta in questo viaggio tra Roma e Parigi di una sosta a Milano. Le accademie artistiche, che sono ad un tempo l'abbiamo visto, istituzioni didattiche e luoghi di elaborazione teorica, trovano nel sistema dei concorsi pubblici uno straordinario dispositivo per fare interagire due fronti che potremmo chiamare interno ed esterno. Sul piano didattico i concorsi costituiscono uno strumento di controllo dell'apprendimento, di verifica dei metodi didattici, costituiscono anche un elemento per la selezione degli studenti migliori, facilitando il loro ingresso nel mondo professionale. Sul fronte esterno i concorsi costituiscono un'occasione per esposizione delle pratiche accademiche, di ricerca di consenso e di orientamento del gusto del pubblico verso modelli consolidati. I concorsi di architettura in particolare costituiscono anche uno spazio di elaborazione di modelli che in qualche caso possono tradursi in proposte e idee concrete sulle strategie di sviluppo della città. A lato della fondazione dell'Accademia di Brera 1776 nell'ambito del riformismo illuminato di Maria Teresa d'Austria, la pratica dei concorsi di architettura è ben consolidata, abbiamo visto oggi quelli dell'Accademia di San Luca, ricordo gli altri due centri maggiori che sono l'Accademia Clementina di Bologna e quello di Parma. Tra l'altro in alcuni casi in questa tradizione il concorso si traduce in un laboratorio di idee su temi concreti, cito velocemente il concorso bolognese del 1749 che ha come tema una facciata di una chiesa che si assimila a quella di San Petronio o quello romano del 1824 che chiede come tema il ripristino dell'antica basilica di San Paolo fuori le mura. Il caso milanese mi sembra però in proposito particolarmente significativo. Il sistema dei concorsi viene infatti ufficialmente istituito con gli statuti e con il piano disciplinare per le Accademie Nazionali di Belle Arti del 1803, in un momento storico, quello della Repubblica Italiana, in cui sotto l'influenza francese si assiste ad una più generale riforma degli studi all'insegna di una maggiore istituzionalizzazione e di un maggiore controllo da parte dell'amministrazione statale, ma anche in vista di una ridefinizione del ruolo civile delle Accademie all'interno della società. I concorsi costituiscono infatti un elemento chiave nella strategia di Giuseppe Bossi, il segretario accademico, potenziando, permettendo di superare l'handicap di Brera che nasce sostanzialmente come una scuola, potenziando il suo compito di organismo pubblico impegnato attivamente nel dibattito artistico. Una strategia di cui fanno parte anche la creazione del corpo accademico, sempre a questa data, e l'impegno dei membri accademici nelle diverse commissioni governative incaricate di dirimere questioni legate alle belle arti, tra cui si distingue per importanza quella la commissione di Ornato 1807, nata come struttura di controllo sull'edificato, ma che inizialmente risulta investita anche di una funzione progettuale come testimonia alla nota vicenda del piano dei progetti dei nuovi rettifili. Ma torniamo ai concorsi. In base agli statuti del 1803, i concorsi di prima classe, detti anche grandi concorsi per distinguerli dai concorsi di seconda classe riservati solo agli allievi, erano banditi dalle Accademie nazionali di Milano e Bologna, ma dal febbraio 1808 solo da quelli di Milano, e solo da quella di Milano, ed erano destinati agli artisti italiani e stranieri, indipendentemente dalla loro provenienza e formazione. I temi scelti, proposti dal segretario, venivano resi pubblici attraverso programmi a stampa nella primavera dell'anno precedente, di modo che i concorrenti avessero un anno di tempo per redigere gli elaborati di progetto. Questi dovevano essere rigorosamente anonimi e contrassegnati da un epigrafe, che in caso di vittoria permetteva il riconoscimento dell'autore, il cui nome e il domicilio erano contenuti in una busta sigillata. Questo sistema raccoglie, interessante perché raccoglie elementi della tradizione italiana, ma anche elementi della tradizione francese, in particolare dell'Accademie d'Architecture di Parigi, che inevitabilmente costituisce un modello. Sappiamo infatti che Giuseppe Bossi si reca a Parigi nel 1802, che è un momento di transizione dopo la soppressione dell'Accademie nel 1793, e in un momento in cui si sta sperimentando quella unione dell'architettura con le altre due arti del disegno, che poi verrà ufficializzata nel 1815 con la fondazione dell'Ecole des Beaux-Arts. Tanto è vero che Bossi porta da Parigi una coppia della collezion des prix che la SIDEVANA Académie d'Architecture proposée et couronnée tout les ans del 1801, nell'edizione curata da Apriore e Van Klenput, che diventa poi il modello anche della pubblicazione delle opere dei concorsi milanesi, che viene curata poi dal 1821 da Pizzagalli a Luisetti e Gaetano Banfi. Insomma, negli anni napoleonici i concorsi costituiscono il momento centrale dell'intero sistema didattico, lo strumento per dare funzione pubblica all'Accademia. La pubblica esposizione degli elaborati, 15 giorni prima del giudizio della Commissione, costituisce una vetrina delle attività accademiche. Il discorso relativo alle arti del disegno, pronunciato dal segretario in occasione della pubblica distribuzione dei premi, consente di definire gli indirizzi teorici e di orientare il gusto del pubblico. Gli elaborati dei concorrenti vincitori, che restano di proprietà dell'Accademia, entrano nel patrimonio della scuola e diventano a loro volta un sussidio didattico, sollecitando all'emulazione le successive generazioni di allievi. Tra le norme che regolamentano i concorsi di prima classe, una in particolare interessa in questa sede, quella che stabiliva che nella scelta dei soggetti l'Accademia dovesse preventivamente chiedere al Governo se vi fossero, cito, opere pubbliche da eseguire appartenenti alle belle arti per farne argomento degli anni concorsi, di modo che questi non fossero un puro esercizio scolastico, ma potessero costituire una palestra di idee al servizio della comunità. E questo in base a un principio dell'utilità civile delle arti e del disegno, che costituisce l'eitmotiv dei discorsi tenuti dal segretario Bossi negli anni della Repubblica Italiana e del Primo Regno d'Italia. Anche in questo caso ci possiamo interrogare sull'influenza francese. La clausola non era evidentemente presente nei concorsi dell'Accademia d'Architecture, però sappiamo che il principio dell'utilità civile era quello che aveva animato tutta la vicenda dei concorsi dell'anno secondo banditi dal governo repubblicano nel 1794 e ricordo che quello che costituisce il seguito della tradizione a stampa dei grandi concorsi, cioè il volume Progete d'Architecture che è un meritele Grand Prix che viene edito a Parigi nel 1806, curato da Lede, Tiornello e Vodoyer, univa proprio i concorsi della tradizione accademica con quelli dell'anno secondo. In un momento, 1806, gli anni dell'impero in cui si voleva in qualche modo ristabilire una continuità con la tradizione dell'ancien regime. Certo, questo non significa che i progetti vincitori dei concorsi breidensi fossero effettivamente destinati alla realizzazione. I concorsi restavano un esercizio teorico e le prescrizioni del bando si mantenevano in termini generici, prescindendo da vincoli concreti connessi alla localizzazione, alle risorse economiche e persino alle dimensioni del progetto. Tuttavia, i grandi concorsi di architettura attivati a Brera nella decina d'anni che separa gli statuti del 1803 dalla caduta del Regno d'Italia, costituiscono un laboratorio ideale dove si sperimenta un'idea di architettura funzionale alla trasformazione di Milano in una città capitale, con particolare attenzione per gli edifici pubblici e per quelli legati all'affermazione della regalità. Tra i soggetti di interesse pubblico troviamo infatti un grande orfanatrofio militare, 1805, tema di attualità dopo la soppressione dell'orsofanatrofio dei padri somaschi nel monastero di San Pietro in Gessate. Un edificio alla maniera degli antichi musei dei pitagorici italiani, 1806, in singolare coincidenza con la decisione di Eugenio di Boernet di aprire le reali gallerie nel palazzo di Brera. Un vasto recinto presso i francesi menagerie destinato a contenere i serragli per le fiere, 1809, tema che contemporaneamente viene assegnato a tre architetti, Luigi Canonica, Giuseppe Zanoia e Luigi Cagnola, che redicono progetti per ripensare l'area tra i bastioni di Porto Orientale e il naviglio della Marcezzana. Non c'è il disegno perché il concorso va deserto. Negli anni successivi, sempre in una logica di dotazione per una città capitale, troviamo una fabbrica ad uso di carceri, bagni pubblici per una città popolosa e una casa di ritiro per militari invalidi. C'è un problema nella visualizzazione. Negli stessi anni, in linea con la presenza di una corte attorno al vicereo Eugenio di Boernet, che promuove interventi di ristrutturazione tanto nella Villa Reale di Monza quanto nel Palazzo Reale di Milano, tre concorsi alla cui definizione partecipa direttamente l'intendente generale dei beni della Corona, Giovanni Battista Constabili Containi, hanno per soggetto un palazzo reale da campagna con giardini, premio non assegnato, e un palazzo reale per una città di pianura 1808, nell'immagine di Dioniso Lorenzo Santi. Mentre nel 1809 viene assegnata come tema una vasta e magnifica galleria destinata a contenere le opere dei pittori e scultori viventi del regno, le statue dei principi e dei ministri, che fa esplicito riferimento al progetto di una galleria da realizzarsi nel Palazzo Reale di Milano, per cui fu effettivamente richiesto un disegno a Luigi Canonica e venne stanziato un assegno di 250.000 lire. L'ultimo concorso di età napoleonica segna però un'inversione di tendenza, con la richiesta di un ponte trionfale, tema decisamente poco congeniale al contesto milanese, che prelude ad un ritorno a temi aulici esquisitamente accademici, come il magnifico Tempio Cattolico per una città in forma di croce greca, non conservato, con cui si inaugura l'epoca della restaurazione asburgica. Negli anni del Regno Lombardo-Veneto i concorsi di prima classe alternano temi aulici ai temi utilitari, che in molti casi traggono spunto da questioni dibattute nel contesto municipale, ma la maggior parte dei soggetti si riferisce ad attrezzature pubbliche che costituiscono la dotazione generica di una capitale e si perde, rispetto all'età napoleonica, la corrispondenza con concrete iniziative in corso d'opera, così come il contatto diretto con l'amministrazione statale, nessun esempio, appunto il tema di una grande dogana, un vasto e magnifico edificio ad uso di accademia di belle arti e un pubblico archivio per una città capitale. Di fronte a temi poi come un sontuoso casino destinato al riposo della caccia per un principe sovrano, oppure un magnifico palazzo di città per un gran signore, non stupisce che negli anni della restaurazione diversi articoli sui giornali comincino a denunciare la sterilità dell'insegnamento accademico, invitando, cito dall'Italia musicale del 1847, a pensare un po' meglio ai bisogni e allo spirito dell'epoca presente. L'allontanamento dei grandi concorsi dai problemi concreti e dalle tendenze in atto nella società milanese risulta aggravato dal fatto che gli esiti dei grandi concorsi rimangono irrigiditi sulla cifra neoclassica ben oltre la metà del XIX secolo. Solo dopo la morte di Amati, 1852, si registrano infatti le prime aperture nei confronti di altri sistemi linguistici, in coincidenza con la nomina di un architetto imposto da Vienna, Federico Schmitt, alla guida della scuola di architettura. Vediamo il cambio di tendenza con questo progetto del 1859, un grandioso palazzo di abitazione per un ricco signore nello stile lombardo della seconda metà del XIV, vinto da Cesare Osnago, che segnala l'ingresso dello storicismo nella scuola di Brera. E solo negli anni 50 troviamo dei temi, diciamo, moderni, come quello della stazione, soggetto di un concorso del 52-53, ma non assegnato. Nell'Italia Unita, il nuovo statuto dell'Accademia di Brera, 1860, porta alla soppressione dei concorsi di prima classe, mentre i piccoli concorsi per gli allievi interni sono sostituiti da premi scolastici, premi di istituzione ministeriale e alcuni concorsi iniziativa privata. A raccogliere l'eredità dei grandi concorsi, in un momento in cui la scuola di Brera è dominata dalla personalità di Camillo Boito e dalla sua ricerca di uno stile nazionale che, come è noto, affonda le sue radici nel Romani Colombardo, e si vede come questo influenzi i disegni della scuola di Brera, dicevamo, a raccogliere l'eredità dei grandi concorsi intervengono due premi di istituzione privata, i premi canonica e i premi vittadini, che si distinguono per l'apertura ai concorrenti esterni all'Accademia e per l'attenzione a temi di interesse cittadino. In questi anni si registra inoltre una maggiore attenzione per gli aspetti concreti, materici dell'architettura, scusate, manca una foto, manca un'immagine, non importa, per gli aspetti concreti, con attenzione per i costi e le dimensioni, per la scelta dei materiali e per gli aspetti simbolici legati al sistema decorativo. Il concorso canonica, istituito nel 1844, ha una cadenza annuale e propone a rotazione soggetti di architettura, pittura e scultura. I temi sono esemplati su quelli dei grandi concorsi, ma negli anni postunitari compaiono anche temi legati all'architettura residenziale, un tema abbastanza nuovo per Brera, e temi legati al restauro di particolari monumenti cittadini. Segnalo questo del progetto per la facciata della chiesa di San Satiro o la nuova facciata per la chiesa abbaziale di Chiaravalle, uno del 1862 e l'altro del 79, così come il tema di concorso del 1882, che richiedeva un progetto per la facciata del Duomo di Milano in corrispondenza dell'organismo antico e allo stile dell'edificio, che costituisce il banco di prova del concorso bandito dall'amministrazione municipale quattro anni dopo. Ancora più esplicito in questo senso è il concorso Vittadini, nato nel 1852 ma avviato a partire dal 1862. I premi Vittadini promuovono progetti, scusate, il concorso Vittadini prevede per statuto che i soggetti siano concordati con il Comune di Milano e in questi anni troviamo quindi progetti per mercati, ho preso degli esempi assolutamente un po' esemplificativi, progetti per mercati, ne troviamo due, progetti per barriere daziarie o progetti per cimiteri, questo in particolare realizzato da Gaetano Moretti. Progetti che costituiscono proposte concrete, spesso in specifici luoghi della città, abbiamo visto mercati per Piazza Santo Stefano, per Porta Garibaldi, barriera all'ingresso della strada per Genova, quindi luoghi concreti e soprattutto spesso in concomitanza con analoghe iniziative municipali. Tra i soggetti dei concorsi Vittadini non mancano progetti di arredo urbano, il tema della fontana viene ripreso più volte, o interventi volti al restauro, al completamento di edifici preesistenti, troviamo anche nei concorsi Vittadini il tema del restauro, per esempio nel 1875 si chiede la facciata per la chiesa di Santa Maria del Carmine, vinta da Gaetano Landriani. Temi che in qualche caso si pongono in stretta relazione con le trasformazioni viare che investono concretamente la città di Milano, faccio anche qui due casi, il tema del ripensamento di piazza mercanti, della vecchia piazza dei mercanti dopo l'apertura di piazza del Duomo e l'apertura di via degli orefici, che porta a un ripensamento del vecchio palazzo dei giuriconsulti, allora della Borsa, concorso del 1871, o il tema di piazza del Duomo che viene dato come soggetto di concorso per ben tre volte tra il 1879 e il 98 e qui vi presento il concorso del 1890 vinto da Ranieri Arcaini con un progetto di fondo della piazza del Duomo. Continuiamo la nostra carrellata molto veloce, nei primi decenni del Novecento i concorsi Vittadini si cimentano anche sul tema dell'edilizia popolare, un gruppo di case operai di Orsino Bongi, è del 1902, sottolineo la legge Luzzati che promuove l'edilizia popolare in Italia del 1903, quindi temi assolutamente, come dire, contemporanei, aggiornati, una cultura aggiornata. Concorsi che si cimentano anche su temi di risonanza nazionale, come il progetto per un nuovo campanile di San Marco a Venezia, assegnato nel 1903, il campanile raccolato nel 1902, purtroppo di questo non si è conservato il disegno, o su temi di natura urbanistica, quali il collegamento tra la nuova stazione ferroviaria di Piazza Doria e il centro della città, tema assegnato nel 1920, o la sistemazione di Piazza della Scala, assegnato nel 1928. Anche di questi non si conservano i disegni. Ma dispetto di tutto questo, il destino dell'architettura in Accademia è ormai segnato. La moltiplicazione degli attori coinvolti nel processo edilizio e la moltiplicazione dei luoghi decisionali, commissione edilizio, municipali, ordini professionali, eccetera, ha ormai decretato la perdita di peso delle Accademie nei processi di gestione e trasformazione della città. E la mancanza di definizione di un preciso ambito di competenza professionale per i professori di disegno architettonico, questo era il titolo rilasciato dalle Accademie nella seconda metà dell'Ottocento, ha sottratto progressivamente all'Accademie il volano della formazione architettonica, a favore delle scuole di applicazione per ingegneri e delle nuove scuole di architettura, cito quella di Roma, una delle prime più importanti, 1919. A due anni dall'ultimo concorso Vittadini, che è data al 1931 e che ha per tema, assai modestamente, un chiosco per la distribuzione dei biglietti delle tramvie comunali, a due anni a Milano si apre la facoltà di architettura del Politecnico di Milano, che decreta la fine della scuola di architettura a Brera e della lunga cogestione che, a partire dal 1865, aveva permesso di rilasciare il titolo di architetto civile al Politecnico di Milano, proprio in una formazione congiunta con l'Accademia di Brera. E, sempre nel 1933, un convegno sulla formazione dell'architetto, promosso dalla rivista L'Architecture d'aujourd'hui, nell'ambito della Quinta Triennale, un convegno con una fortissima delegazione straniera, 130 delegati, tra cui si annovera il gota della cultura del modernismo architettonico internazionale, cito fra gli altri Peter Behrens, Rick Tessenov, André Lorsat, Pierre Vagot, Joseph Frank e per l'Italia Ernesto Nathan Rogers e Piero Bottoni, 1933, il convegno della Triennale sancisce il diktat modernista dell'inattualità delle accademie, contribuendo alla diffusione di uno stereotipo che segnerà gran parte della cultura architettonica del Novecento. Ancora nel 1968, Piero Bottoni, ricordando la sua formazione al convegno dell'eredità di Terragni, la ricorda così. L'architettura ci veniva allora rappresentata sotto la forma di studi dell'abaco di un capitello dorico piuttosto che ionico e complessivamente in base ad una serie di conoscenze puramente formali e accademiche, che non avevano nessuna relazione con le forme dell'architettura che in quel momento si realizzavano, con un'evidente forzatura rispetto alla tradizione di Brera che però era del tutto funzionale alla costruzione di un linguaggio moderno. Vi ringrazio.